allora acquisti lucca parte 2 come dicevo nell'altro video abbiamo il restante del bottino quindi coconino bd j pop ikari dyinit canicola e oblomov e anche una cosina della holopress di mio amico paolino e quindi andiamo a vedere il resto della roba e poi basta quindi ripartiamo dalla cocos e abbiamo 51 modi per proteggerla di usamaru furuja coconino doku 2 brussuratini 13 per 18 190 pagine 1 costano 9 eurini l'uno e 51 modi per proteggerla che se devo essere onesto ho letto i primi due ed ero talmente tanto intrippato che diciamo ho finito la serie con dei sistemi diciamo alternativi ok questo a me è piaciuto un sacco è piaciuto un sacco è un manga post apocalittico ambientato in giappone dove viene a tokyo c'è un terremoto mostruoso che distrugge tutto quanto della storia di due di questi due ragazzi jim e nakano che andavano a scuola insieme da ragazzetti alla fine di varie peripezie di vari sbattimenti strani tra l'altro ci sono delle scene veramente raccapriccianti e quindi questo survival non horror thriller diciamo bello molto molto bello poi abbiamo maledizioni di george wyleson brussurato della coconino brick 15 per 21 272 pagine con le bandelline 22 eurini maledizioni un nuovo titolo della collana brick che ci porta un'esplorazione inquietante e affascinante del mondo di fantasmi non si tratta solo di spettri di persone ma anche di luoghi di ricordi sbiaditi e di spazi digitali ormai scomparsi l'autore ci guida attraverso labirinti oscuri e dimensioni alternative dove incontriamo personaggi animatici come un agente immobiliare mistero insomma questo qui è un trip veramente molto malato sia dal punto di vista narrativo che delle tavole perché come potete vedere non c'è proprio un ordine uno stile predefinito sono vari deliri che io l'ho sfogliato velocemente non l'ho ancora letto questo e devo dire che è molto intrigante non so se si capirà effettivamente qualcosa alla fine oppure è uno di quelle robe che diceva bebo che cazzo è troppo bello poi passiamo alla grande rimozione di roberto grossi brossoratino 208 pagine 15 per 21 costa 20 eurini a colori questo anche altro vabbè grande rimozione di roberto grossi è un grafinovel che affronta in modo potente e visivo il tema del cambiamento climatico se vi interessa c'è una live con jacopo della cocco e roberto grossi appunto di qualche settimana fa che potete trovare sul canale instagram e che è molto interessante l'autore attraverso mix di aneddoti personali dati scientifici e analisi politica dipinge un quadro allarmante della situazione attuale mettendo in luce come la crisi climatica sia profondamente intrecciata con le nostre scelte individuali e collettive quindi sostanzialmente è un saggio con varie opinioni e anche dati scientifici sul discorso del cambiamento climatico che è una tematica a noi piuttosto cara perché cazzo viviamo nel mondo e quindi potrebbe essere un problema poi abbiamo abbiamo fiori di pietra volume 1 di isashi sakaguchi credo russurato 13 per 18 296 pagine 16 eurini all'inizio del 1941 quindi siamo in periodo seconda guerra mondiale krilo è uno studente che vive in una piccola città della jugoslavia all'inizio di aprile la jugoslavia viene invasa dalla germania appunto mandando in frantumi la vita pacifica di krilo innumerevoli personaggi del villaggio vengono uccisi altri imprigionati krilo riesce a fuggire senza avere piani per il futuro parte per zagabria alla ricerca del fratello maggiore l'invasione potrebbe essere finita ma la lotta la jugoslavia appena iniziata quindi 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 manga ambientato nel periodo della seconda guerra mondiale è molto interessante non so quanti volumi saranno onestamente questa credo che sia una novità non credo che sia una ristampa una riedizione quindi è una roba abbastanza nuova se non altro inedita disegni interessanti mi aspettavo qualcosa di diverso più stile però ci sta ci sta non sembra malaccio non sembra malaccio va bene va bene poi qua abbiamo due bombazze e cioè le leggende del judo volumi 1 e 2 di baron yoshimoto mamma mia come ballava yoshimoto a luca cioè ragazzi quello è veramente un mito assoluto comunque brossurati 15 per 21 25 orini l'uno anche questa è un'opera inedita e le leggende del judo di baron yoshimoto di pilastri al movimento jackika degli anni 70 attenzione quando leggo jackika mi jackika mi emoziono arriva finalmente in italia questa saga epica tradotta per la prima volta fuori dal giappone appunto intreccia le vicende di una famiglia di judoka con la tumultuosa storia del giappone dal periodo meiji fino agli anni 70 seguiremo le gesta di yanaji kankuro un giovane che si trasferisce a tokyo per onorare la volontà del padre diventa ben presto un paladino dei più deboli attraverso i suoi occhi assisteremo alla nascita di una nuova epoca fatta di cambiamenti radicali e di lotte per l'affermazione dei propri ideali un'opera imperdibile impressionata in arti marziali storia fumetti che non è uno aspetta aiutatemi come si dicono come si dice quei manga quelli che parlano di sport spoken credo non è uno spoken vabbè insomma vedremo poi dopo abbiamo questa bombazza qui the complete eight ball di daniel close daniel close che era ospite a lucca e quindi naturalmente abbiamo l'autografino la dedichina insomma eccola qui tu enrico che si è sprecato granché mi sembrava un po scazzato però magari era solo l'impressione comunque vabbè the complete eight ball che contiene i numeri dall'1 a 18 un brossurato da 528 pagine di 626 classico costa 50 eurini 49 è un viaggio surreale e corrosivo nel cuore dell'america più scura e comica attraverso le penne daniel close uno dei maestri dei fumetti americani ci stiamo all'esplorazione dei temi universali come l'alienazione la paura dell'ignoto la ricerca di un senso questo volume raccoglie tutte le 18 uscite predicatori fanatici super eroi tormentati e adolescenti disadattati sono alcuni personaggi che incontreremo in queste pagine oltre a essere inedite in italia perché dovevo uscire per un'altra casa editrice poi alla fine non so come cazzo perché non se ne è fatto più niente adesso esce per la cocos e ce l'abbiamo qui ballo fresco ballo fresco tanta roba tanta roba poi abbiamo m il mago di mattioli brossurato 200 pagine 28 per 29 quindi una squadra praticamente dopo successo di squeak the mouse quello lo volevo recuperare perché l'avevo già messo nella nel carrello diciamo nella lista delle cose a tenere d'occhio ma non l'ho mai preso preso direttamente questo qui e m il mago uno dei titoli più famosi scatolita del genere di massimo mattioli realizzato in francia protagonista uno spazzoso stregone che può compiere ogni tipo di incantesimo mentre gli altri personaggi ben consapevoli della propria identità fittizia sono liberi di vaccare tra le pagine di interagire con gli sfondi e rivolgersi direttamente all'autore e al lettore quindi qui sfonda la terza la quarta la quinta parete arriva proprio in cantina è interessante anche qui ha una struttura abbastanza particolare con queste micro vignette sembra quasi una roba strisce magari lo è e anche questo qui l'ho solo sfogliato devo ancora dargli un'occhiata per bene però sembra molto interessante visionario demenziale poi passando alla j abbiamo i gatti di ulta e altre storie di hp lovecraft adattato da gota nabe chiaramente gota nabe ospite a lucca ho scroccato una foto su yafilungo fantastico prussurato 17 per 12 con sopra copertina 224 pagine 7 orini nella città di ulta una curiosa legge vieta l'uccisione dei gatti perché è stata promulgata e quale legame ha con la vicenda drammatica e truce di una copia di crudeli agricoltori la collezione dei presidi trattamenti lordcraftiani firmati dal talento di mangaka gota nabe prosegue con un nuovo attesissimo volume unico che raccoglie le versioni dei fumetti di ultra ce le fai schiazza e gli altri dei racconti appartenenti ha celebrato ciclo dei sogni del maestro di providence providence che è veramente quello è una grossissima figata se vi manca providence ve lo consiglio tantissimo comunque disegni belli chiaramente tanabe merita io devo aver letto un altro paio di robe di tanabe non tantissimo perché non è proprio il mio però obiettivamente merita ok poi abbiamo il primo volume della redizione di astro boy della j pop di osamu tezuka è brossorato 15 per 21 tipo 300 pagine 300 pagine una roba così costa 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 15 eurini e questo l'ho letto già e devo dire è parecchio carino allora robe tutte piuttosto non direi quasi anacronistica nel senso che a parte ci sono delle robe che oggi con politicamente corretto non potresti pubblicare mai però vabbè può un robot avere un'anima costruito da un brillante scienziato per colmare il vuoto lasciato dal figlio perduto tra l'altro è praticamente le scene le pagine iniziali che sono di un cinismo veramente spietato comunque vabbè il figlio perduto è dotato di poteri oltre all'immaginazione piccolo ma grande astro boy combatte in difesa di oppressi e indifesi siano essi umani alieni robot il personaggio più celebre amato dal genio di osamu tezuka e mangaka devozionale bla 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 comunque al di là di tutto il tramone le prime due o tre pagine sono veramente allucinati poi per la bd abbiamo hexagon breach di richard blake cartonato di 326 160 pagine 20 euro quando la coppia di esploratori jack o belena si ritrova intrappolata in una bizzarra dimensione parallela la figlia chiarovigente adlai dotata di poteri psichici si lancia in una rischiosa missione di salvataggio accompagnato dal robot senziente staden quindi stiamo parlando di una storia sostanzialmente sci fai decise ad arrivare dove nessuno sia mai spinto sulla loro strada incontreranno creature indecifrabili tra realtà in evoluzione fino ad arrivare in un mondo al di là di ogni immaginazione da quello che ho letto un po in giro così pareri su instagram eccetera questo è un viaggio bello diciamo dal punto di vista grafico la storia da quello che ho letto così è interessante forse un po intricata forse si fa perdere un po in alcuni punti però dal punto di vista grafico è veramente una figata clamorosa credo che sia il volume il fumetto d'esordio di sto richard blake quindi vediamo un po vediamo un po poi passando alla dynit abbiamo saturn return volume 1 di akane torikay ve lo sono dato 232 pagine 13 no 20 x 15 13 orini questo lo pigliate per entrare nella firma copie da torikay infatti poi c'è anche altro cofanettino beh akane torikay che ragazzi io non so che cazzo dirmi ma non riesce a piacermi cioè ci sto provando con tutte le mie forze ho letto pure la professoressa mente però ha uno stile che boh cioè non riesco a comprendere sarà un limite mio è quello mortiglio comunque dopo dovrebbe essere uno dei top che ha fatto adesso devo iniziare a oscurare un po di robette se no youtube mi cazzo dopo aver scritto best seller nonostante gli incessanti pressioni del suo editor e tsuko kaji sembra non essere più interessata alla scrittura e sia contenta della sua vita da casellina depressa finché non riceve una telefonata tramite la quale apprende la morte e il suicidio di un suo amico amico che da anni prima aveva chiesto di scrivere un libro nella sua vita perché non sarebbe arrivato ai 30 anni ok la trama è intrigante però boh e qui abbiamo il cofanettino di girl friends in l tre volumi costa una quarantello 200 pagine a volume 13 per 18 sono tutto classico semplici a canetto ricara naturalmente la storia segue le viti di tre donne cana 31 anni divorziati cresce da sola la figlia caede di quattro anni iuri un impiegato d'ufficio dall'aspetto austero che fa la fa sembrare molto più vecchia dei suoi 28 anni ma che ha un passato dissoluto now infine una fashion designer di 36 anni molto popolare fa gli uomini le tre non avendo altre amicizie decidono di condividere la casa sembra uno di quei film di tarda serata su rete 8 non lo so e anche qui ma tipo i disegni no io non capisco il cazzo il manga li leggo da poco però non manca un po qualcosa c'è tutti i fondali non manca tutto c'è sembrano delle vignette tipo quelle di della linea quelle che facevano su tutte le monte carlo senza leggerare chiaramente però mi sembra che manchi un po qualcosa vedremo poi passando a icari ho pigliato il primo volume di jen di roshima ma anche questo qui l'ho pigliato per entrare nel firmacopio della kojima in realtà questo qui è già su vinted se volete andare a raccattare a tre quattro euro mi sembra perché mi sono pigliato i volumoni quelli giganteschi mentre registro video devono ancora arrivare al limite voi farò un altro video acquisti dove vi faccio vedere tre volumazzi di jen di roshima anche questo diciamo iniziato a leggere con metodi alternativi e mi ha gasato tantissimo quindi io appunto quello che leggo così me lo piglio jen di roshima il tragico resoconto del lancio della prima bomba atomica un toccante racconta autobiografico sulle conseguenze della guerra e l'intenzione dell'autore diventa un grido di speranza per le nuove generazioni affinché trovino la forza per dire no a tutte le atomiche jen fa rivivere una dolorosa pagina di storia attraverso gli occhi di un bambino che l'ha vissuta e che un giorno ha deciso di raccontarla al mondo è pesantino e va alternato con un po di roba perché sono tipo i tre volumi che pigliassano 2000 pagine è una cosa infinita però a me la storia intriga sai poi abbiamo sempre per icari diletta di osamu tezuka brossurato 396 pagine 24 per 18 no 24 per 17 18 eurini diletta il capolavoro comico di osamu tezuka anche questo qui l'ho pigliato diciamo un po scatola chiuso per entrare in firma copie però ne avevo già sentito parlare avere preso la cronaca degli insetti umani e se devo essere sincero che l'avevo già letto mi era piaciucchiato l'avevo venduto ci stava a riprenderlo proprio questo qui che è nuovo geniale manipolatore ikiro monzen è un produttore televisivo sempre la ricerca di successi per nutrire il suo ego smisurato a rumina gisa una ragazza di campagna ingenua e irrimediabilmente brutta ha non di meno una voce stupenda e soprattutto il potere di diventare bellissima quando digiuna anche qui c'è proprio politicamente corretto qua ti pela ti rasa le chiappe da una parte dall'altra comunque vabbè monzen pensa di fare la stella del futuro peccato che il fidanzato yarumi e lo scontroso mangaka o tokyo anabe non sia affatto d'accordo quando nel corso di un violento faccia faccia o cico precipita sotto le fondamenti dei palazzi in costruzione il produttore pensa di essersi liberato eccetera eccetera insomma un viaggio incredibile di tezuka vabbè e poi qui della signora miyako kojima abbiamo l'inferno delle vergini brossurato 24 per 18 180 pagine 18 eurini immergiti nell'universo macabro di miyako kojima il cui stile artistico unico fonde magistralmente influenze di maestri dell'oro come idashino kazuo mezu che è quello di aurora da riva ma chi cazzo ma lo vendete aurora da riva l'inferno delle vergini una raccolta di nove storie brevi che esplorano vari aspetti del generale attraverso la lente unica e creativa di miyako kojima ogni racconto è caratterizzata un mix di elementi grotteschi umorismo nero e vari cazzi perché effettivamente qua ci sono delle scelche tutto un po abbastanza grottesco e strano mi aspettavo una cosa diversa che è più psicologica diciamo più psico horror non i mucitrizi vabbè vedremo magari 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 poi della holopress abbiamo questo affare strano di una forma stranissima si chiama bob di david genchi e michele marchetti con la costina le pagine colorate di verde e io non so che cazzo dirvi di questa cosa qui perché non ci sono nessun tipo di informazioni né online né in rete questa è una roba nuova che ha dato mi ha dato paolino paolino patatino e non so esattamente l'ho sfogliato un po ho visto che ci sono delle tavole abbastanza malate disturbanti eccetera in pieno stile hollow però se devo dirvi di cosa parla sto a fare non avrei proprio idea ecco già qua ci sono delle robe da censurare benissimo ancora censurare immagino che vedrete niente insomma tutte queste cosine qui non lo so adesso quando lo leggo poi trovate il post su instagram ok per adesso non ho assolutamente idea di che cosa aspettare poi passando alla oblo move abbiamo tokyo goodbye di oiji e suzuki rossurato 216 pagine 24 per 17 costa 20 orini tokyo goodbye è una raccolta di racconti brevi e suzuki che intrecciano realismo e surrealismo l'autore maestro dei generi c'è porta in un viaggio attraverso ricordi di infanzia sogni e visioni ambientati nella tokyo e dopo guerra quindi diciamo che forse è un jackie anche questo ma non so vedremo le storie spesso autobiografiche sono caratterizzate da un'atmosfera onirica e da un umorismo surreale che li distingue dai lavori dei suoi contemporanei suzuki esplora tema universale come la famiglia amicizia il passato del tempo utilizzando il stile narrativo fluido è un tratto distintivo che ne va insomma cazzate vari e anche questo qui sembra molto 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 carino bene poi sempre oblo move abbiamo celestia l'integrale di manuel fiore cartonato 272 pagine 20 x 26 costa 35 orini questo l'ho già letto perché è una di quelle cose che mi intreppava immediatamente su di tornato a luca e devo dire che è un viaggio veramente molto 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 interessante allora questa è una di quelle storie che quando finisci non almeno personalmente non sei sicuro di aver capito tutto tutto però tutto sommato te ne sbatti nel senso che il viaggio è stato talmente bello la storia è stata talmente interessante i disegni talmente tanto evocativi e rappresentativi che dice vabbè sti cazzi io la mia esperienza me la sono fatta e quindi va bene così comunque celeste è una sorta di venezia alternativa rifugio per fuggitivi in un futuro post apocalittico un gruppo di giovani telepati trovano riparo sull'isola ma la pace è minacciata dall'anarchia e dalla criminalità d'ora la telepata è più potente e fugge con pierrot un personaggio misterioso in un viaggio attraverso le calli di celestia ok bello ed anche questo mi sono letto subito subito di aereo di una cagna di grazia la padula e saline tran brossurato di 136 pagine 30 per 21 22 urini questa questa qua c'è da censurare il mondo perché comunque è una storia un po' così ci sono delle scene un po' così elisa 52 anni scrive per una rivista femminile un giorno per caso scopre che dà un sms che l'amorevole marito la tradisce e poi c'è tutto da vedere sta cosa qui comunque sconvolta decide di non far trapelare nulla e di scoprire chi è l'amante alla ricerca dell'altra persona diventa presto in parallelo la ricerca di una nuova se stessa infatti qui diciamo che è la parte più interessante c'è il fulcro di tutta la storia e stai lì si fa un trip tutto metafisico dove va la scoperta di se stessa sotto vari punti di vista adesso qua devo censurare tutto ragazzi perché sennò youtube mi manda in galera però vi assicuro che è molto 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 interessante femminista anche da un certo punto di vista perché comunque va a fare tutte le riflessioni particolari e quindi se mi intriga questo ve lo consiglio parecchio se in problemi abbiamo il bacio di andrea bruno e frederick debomi brusso rattino da 84 pagine 30 per 21 costa 22 ore in un bacio quattro destini questo racconto esplora le conseguenze profonde di un semplice gesto il bacio in un contesto sognato dal colonialismo e dal turismo sessuale attraverso quattro personaggi situati tra Asia ed Europa l'autore ci mostra come un atto apparentemente innocente possa innescare un cambiamento radicale in una vita Dujeno una giovane donna che si prostituisce incontra un turista francese dalle fantasie contraddittorie loro incontro come un bacio che segna una svolta sia per legge per lui l'autore frederick donomi anche questo qui l'ho già letto e anche questo qui è molto carino molto carino soprattutto la parte finale diciamo dove c'è appunto questa ex prostituta che si sposa va a vivere dall'altra parte del mondo in questo personaggio e ci sono tutte le varie dinamiche che poi cercherà la sua indipendenza e non solo per ringraziare diciamo di averla riscattata in qualche modo sono un trip abbastanza drammatico ma molto interessante poi passando agli amici di Canicola abbiamo figlio unico di Vincenzo Filosa rossurato 15x21 240 pagine costa 18 eurini un'avventura mistica tra fantascienza e romanzo in formazione sulla scena di grandi classici come Astroboy questo l'ho visto prima bambino solitario e scopre di essere unico e speciale un nuovo viaggio attraverso le vette più alte e gli abissi più profondi tra città tentacolari e regni invisibili nel cuore della natura un labirinto stagge di metroid un tossicissimo jet lag Tokyo ma che cazzo voglio vabbè comunque Filosa che anche questo è rospito da Luca però purtroppo non sono riuscito a beccarlo peccato peccato anche questa qui è un'uscita che mi interessava parecchio e finalmente me la sono riuscito a recuperare e niente a questo punto non lo devo ancora leggere vedremo un po' vedremo un po' sempre che a Nicola abbiamo Fiori di Latte di Miguel Villa ospite anche di Luca questo l'ho conosciuto brevemente personaggio totalmente folle è veramente simpatico è brussurato di 624 284 pagine 22 euro Fiori di Latte racconta la relazione di Marco e Stella destabilizzata dall'intrusione di Daniele e soprattutto di Ludovica quindi una storia di un trip amoroso malato disturbante da seno maggiorato e madre di un bambino che farà scoprire a Marco le pulsioni più recondite nel contesto di l'esolazione provinciale di dinamiche sociali meschine vigli esplora minuziosamente le esperienze interiori e sicurezze profonde e desideri inconfessabili ai suoi personaggi questo soft thriller psicologico in cui l'erotismo è il motore di un'azione impacciata e grottesca questo è proprio roba mia e per finire abbiamo Amare questo antologico diciamo di vari autori brussurato 24 per 17 168 pagine 18 euro contiene 5 racconti di 5 ragazze diverse l'antologia di 5 voi 5 l'amicizia scoperta dalla sessualità solo i fili rossi che legano i frammenti di adolescenza raccontati dalle autrici 5 storie di ragazze e ragazzi alle presi con il passaggio dall'età adulta e le aspettative di una società ancora troppo vincolata a stereotipi di genere Amare non è solo un libro ma anche un progetto pedagogico che include incontri con le autrici in mostre workshop anche questo qui è una roba piuttosto interessantina non l'ho letto, ho letto un po' di parere in giro mi sembra parecchio interessante e quindi vedremo un po' i disegni, vabbè insomma sono 5 racconti di 5 storie diversi quindi gli stili sono completamente diversi l'uno dall'altro però a me sembra molto interessante oh e anche la roba di Luca ce la siamo tolta dalle palle ma tanto adesso ne arriverà dell'altra perché è così, è il ciclo della vita diciamo e se per caso venite alla Milano Games Week ci becchiamo lì volentieri io ci sarò di sabato ok? il 23, 24, 28, 31 vabbè comunque nel caso ci vediamo lì e fatti bravi grazie a tutti grazie a tutti